In ogni strada, nei paraggi di Goderville, i contadini e le loro mogli avanzavano verso il paese. Era giorno di mercato. I uomini camminavano a passi lenti, col corpo proteso in avanti ad ogni movimento delle lunghe gambe storte, deformate dai lavori pesanti, dallo sforzo compiuto sopra l'aratro, che sbilancia la spalla sinistra e fa storcere le anche, dalla falciatura del grano, che fa tenere distanti le ginocchia, nella ricerca di un maggiore equilibrio, da tutte le faticose incombenze dei campi. I camiciotti azzurri, inamidati e lucenti, tanto da parer verniciati, guarniti sul collo e ai polsi da un ricamo di filo bianco, gonfi, sui toraci ossuti, parevano palloni in procinto di volar nel cielo, da cui sbucassero teste, mani e piedi. Alcuni si trascinavano dietro, legati a una corda, una vacca o un vitellino. Le loro mogli, dietro le bestie, le sferzavano sui fianchi con un ramo fronzuto, in modo che andassero più svelte. Sotto braccio recavano grandi panieri, da cui spuntavano teste di polli o di anatre. Le donne marciavano a passetti più corti e rapidi dei loro uomini, con il corpo secco e dritto avvolto in miseri cialetti, fermati con una spilla da balia sul seno piatto, le teste racchiusa in fazzoletti bianchi, aderenti ai capelli, sormontati da un'alta cuffia. Al trotto, sussultante d'un ronzino, passava poi una carretta, sballottando comicamente i due uomini sedutisi uno accanto all'altro, e sul fondo del veicolo una donna, che si aggrappava alla sponda per attenuare i duri scossoni. C'era una gran folla sulla piazza di Goderville, un assembramento di esseri umani mescolati a bestie. Le corna dei buoi, gli alti cappelli di pelo lungo dei contadini ricchi, e le cuffie delle contadine emergevano sulla superficie di quell'assembramento. E le voci stridule, aspre e acute, formavano un clamore continuo e sguaiato, superato qualche volta dalla risata sonora, scaturita dal torace robusto ad un campagnolo allegro, o dal lungo mugito d'una vacca legata al muro d'una casa. Su tutto ristagnava un lezzo di stalla, di latte e letame, di fieno e sudore, quel lacrescentore orribile, umano e animalesco, proprio della gente di campagna. Padre Fusherkorn di Bruté era appena arrivato a Goderville e stava andando in piazza quando vide per terra una cordicella. Economo, come ogni vero normanno, pensò che bisogna raccattare qualsiasi cosa che possa venire utile, e si chinò faticosamente, dato che era afflitto da reumatismi. Raccolse da terra la cordicella sottile e stava per arrotolarla con cura quando si avvide che, dalla soglia del suo uscio, lo stava osservando Mastro Malandain, il sellaio. Aveva avuto a che fare con lui qualche tempo prima a proposito di una cavezza, e poiché erano entrambi suscettibili, ti servavano rancore. Padre Fusherkorn provò un po' di vergogna per essersi fatto sorprendere dal suo nemico mentre raccattava una cordicella nello sterco. Nascose rapidamente quel pezzo di spago dentro il camiciotto e poi nella tasca dei calzoni. Fece finta di cercare in terra qualcosa che non riusciva a trovare e finalmente si mosse verso il mercato, a testa alta, curvato in due dai dolori. Si confuse immediatamente con la folla chiassosa agitata da interminabili contrattazioni. I contadini tastavano le vacche, se ne andavano, ritornavano, perplessi, sempre nel dubbio ad essere truffati, sempre indecisi, osservando gli occhi del venditore, cercando di continuo di scoprire i trucchi dell'uomo e i difetti dell'animale. Posati i panieri davanti a loro, le donne ne avevano tratto fuori i polli che stavano a terra legati per le zampe, gli occhi spauriti e la cresta scarlatta. Ascoltavano le offerte, non mollavano per quel che riguardava il prezzo, brusche e impassibili, oppure all'improvviso approvavano il ribasso proposto e lo gridavano al cliente che se ne stava andando via con studiata lentezza. D'accordo, padrone Antim, ve lo do. La piazza si svuotava lentamente e mentre risuonava l'Angelus di mezzogiorno, quelli che abitavano troppo lontano si sparpagliarono nelle bettole. La sala grande, da Jourdain, era affollata di clienti e il cortile era pieno di veicoli di ogni specie. Carrette, carrozzini, calessi, barrocci, inqualificabili carriole, sporchi di sterco, sformati, riparati alla meglio, alzavano verso l'alto le loro stanghe come due braccia, oppure stavano rovesciati a terra col fondo per aria. Vicinissimo ai convitati seduti a tavola, il cammino grandissimo, traboccante di fiamme chiare, gettava un vivo calore verso la schiena della fila di destra. Tre spiedi giravano, carichi di polli, di piccioni e di cosciotti di castrato. Un piacevole aroma di carni arrostite e di sughi, che scorrevano sulla pelle rosolata, si sprigionava dal focolare, eccitava l'allegria e faceva venire l'acquolina in bocca. Tutta l'aristocrazia dell'aratro mangiava lì, da padron Jourdain, oste e sensale, un volpone che aveva parecchi quattrini. I piatti passavano in giro e venivano vuotati, e così le calaffe di sidro giallo. Ognuno raccontava gli affari che aveva fatto, gli acquisti e le vendite. Si informavano dei raccolti. Il tempo era favorevole per l'erba, ma ancora umido per il frumento. All'improvviso si sentì rullare il tamburo del cortile, davanti alla casa. Subito tutti si alzarono, tranne qualche indifferente, e corsero all'uscio, alle finestre, con la bocca piena e la salvietta nella mano. Dopo aver finito il suo rullio, il banditore pubblico annunciò, facendo delle pause e scandendo le frasi in contrattempo. Si porta a conoscenza degli abitanti di Goderville e in generale di ogni persona presente al mercato, che stamattina tra le nove e le dieci, sulla strada di Buseville, è stato smarrito un portafogli di cuoio nero, contenente 500 franchi e vari documenti. Si prega di riportarlo subito in Municipio, o da Mastro Fortunè Ulbrecht, di Manneville. La ricompensa è di 20 franchi. E l'uomo si allontanò. Si udì ancora a qualche distanza il rullare sordo del tamburo, e poi, più fievole, la voce del banditore. Allora si misero tutti a parlare di quell'avvenimento, e a calcolare quante probabilità aveva Mastro Ulbrecht di recuperare il suo portafogli. Finirono il pranzo. Stavano al caffè quando sulla soglia comparve il brigadiere dei gendarmi. Chiese, sta qui Mastro Hushkorn di Bruté? Sta qui Mastro Hushkorn di Bruté? Padron Hushkorn, seduto all'altra estremità della tavolata, rispose, Eccomi qua. Il brigadiere riprese, Mastro Hushkorn, volete favorire con me il municipio? Vorrebbe parlarvi il signor sindaco. Sorpreso, inquieto, il contadino beve d'un fiato il suo bicchierino. Si alzò, e ancora più curvo che al mattino, perché i primi passi dopo una sosta erano particolarmente difficili, si incamminò, ripetendo, Eccomi qua, eccomi qua, e seguì il brigadiere. Il sindaco lo stava aspettando, seduto nella sua poltrona. Era il notaio del paese, un omone serio che parlava pomposamente. Padron Hushkorn, disse, «Stamattina, sulla strada di Busville, siete stato veduto nell'atto di raccogliere il portafoglio, smarrito da patron Halbreck di Manville». Il campagnolo interdetto. Il campagnolo interdetto guardava il sindaco, già spaventato e senza sapere il perché, da quel sospetto che pesava su di lui. «Io? Io ho raccolto quel portafogli?» «Eh già, proprio voi!» «Parola d'onore, non mi sono neanche sognato di farlo!» «Seate stato veduto!» «Han visto me?» «E chi sarebbe che m'ha visto?» «Il signor Malandè, il sellaio». A quel punto il vecchio si ricordò, capì, e disse tutto rosso per la collera. «Ah! Ah! M'ha visto quel farabutto?» «Mi ha visto raccattare questa cordicella?» «Eccola qua, signor sindaco!» E frugandosi in tasca la tirò fuori. Incredulo, il sindaco scuoteva il capo. «Non vorreste farmi credere, padron Huschkorn, che una persona attendibile come il signor Malandè abbia scambiato questo pezzo di corda per un portafogli?» Furante il contadino alzò la mano, sputò di traverso per attestare il suo onore, e affermò «Eppure questa è proprio la verità del buon Dio, la sacrosanta verità, signor sindaco!» «Ve lo giuro in coscienza, signor sindaco, che possa essere dannato, se non è vero!» Il sindaco continuò. «Dopo aver raccolto quell'oggetto avete continuato a cercare a lungo nel fango, nel dubbio che fosse sfuggita qualche moneta!» Il vecchio adesso era senza fiato per l'indignazione e la paura. «Ma guarda cosa arriva a inventare! Ma guarda che razza di fandonie per infangare l'onestà di un cristiano! Ma guarda tu!» Per quanto protestasse, nessuno gli credeva. Fu messo a confronto col signor Marandain, che rinnovò e sostenne la sua accusa. Per un'ora intera si coprirono d'ingiurie. A sua richiesta, padron Huscorn venne perquisito, ma non gli fu trovato addosso niente. Il sindaco, molto perplesso, lo lasciò andare, avvertendolo che avrebbe avvisato la giustizia dell'accaduto e avrebbe richiesto disposizioni al riguardo. Intanto la notizia si era sparsa. Quando uscì dal municipio, il vecchio campagnolo fu attorniato e interrogato con una curiosità acuta e beffarda, ma senza indignazione. Lui raccontò la storia della cordicella. Non gli credeva nessuno. La gente rideva. Lo fermavano tutti per la strada. Oppure era lui a fermare quelli che conosceva, ricominciando di continuo il racconto e le pretese, mostrando le tasche rovesciate per far constatare che non c'era un bel niente. Gli dicevano «L'assai lunga, furbacchione!» E lui si offendeva, si arrabbiava, si accaniva, disperato per non essere creduto, non sapendo più cosa fare e continuando a raccontare sempre la stessa storia. Scese la notte. Era ora di tornare a casa. Padron Hushkorn si avviò insieme ai tre vicini, a cui fece vedere il punto preciso in cui aveva raccolto la cordicella e lungo tutto il tragitto non fece che discorrere della sua disavventura. La sera fece un giro nel villaggio di Bruté per raccontarla a tutti, ma trovò solamente degli increduli. Ci stette male per tutta la notte. Il giorno dopo, verso l'una dopo mezzodì, Marius Pumel, gardone di fattoria presso Mastro Breton, agricoltore a Jumaville, restituiva il portafoglio con tutto il contenuto a padron Hulbreck di Manneville. L'uomo sosteneva ad aver trovato quell'oggetto per la strada, ma poiché era analfabeta, se l'era portato a casa, consegnandolo al padrone. La notizia si diffuse nei dintorni. Ne venne informato Hushkorn. Si mise immediatamente in giro e ripresa a raccontare la sua storia, completandola con la conclusione. Era trionfante. Quel che mi feriva, diceva, non era la cosa in sé, ma la bugia, e il danno maggiore essere biassimato a causa di una bugia. Parlava della sua avventura tutto il giorno, la raccontava ai passanti, agli avventori dell'osteria e all'uscita della messa la domenica seguente. Fermava persino gente che non conosceva per raccontarla. Adesso era tranquillo, ma c'era qualche cosa, non sapeva bene di che si trattasse che gli dava fastidio. La gente che l'ascoltava pareva che si divertisse, non era convinta, e gli sembrava di sentir mormorare appena girava le spalle. Tornò al mercato di Goderville il martedì della settimana seguente, spinto unicamente dal bisogno di raccontare il suo caso. Quando lo vide passare, Malandène, in piedi sulla soglia della selleria, sarà messo a ridere. Perché? Fermò un fattore di crichetò che non gli lasciò terminare il racconto e dandogli una manata sulla bocca dello stomaco gli gridò in faccia «Va là, furbacchione!» e girò sui tacchi. Padron Hushkorn rimase interdetto e sempre più preoccupato. Perché mai l'aveva chiamato furbacchione? Quando fu a tavola nella bettola di Jourdain ricominciò a spiegare la faccenda. Un cavallaro di Monvie gli gridò «Vai, vai, vecchia volpe! La conosco la tua storia della cordicella!» Hushkorn valbettò «Ma si hanno ritrovato il portafogli!» L'altro ribatté «Faresti meglio a stare zitto, nonno! C'è chi trova e chi li consegna!» «Nessuno vede, nessuno sa!» «E chi si è visto, si è visto!» Il contadino si sentì soffocare. Finalmente aveva capito. Lo accusavano di aver fatto restituire il portafogli da un compare, da un complice. Tentò di protestare, ma tutta la tavolata si mise a ghignare. Andò via senza finir di mangiare, in mezzo agli scherzi. tornò a casa, vergognoso e indignato, stretto alla gola dalla collera e dalla confusione, e tanto più prostrato, in quanto, con la sua astuzia di normanno, sarebbe stato capacissimo di fare la cosa di cui veniva accusato, e persino di vantarsene, come di un colpo ben riuscito. Poiché la sua furberia era ben conosciuta, egli sentiva confusamente che non sarebbe stato possibile per lui dimostrare la sua innocenza, e si sentiva ferito al cuore dall'ingiustizia del sospetto. Allora ricominciò a raccontare in giro la sua storia, allungandone ogni giorno la narrazione, aggiungendo ogni volta nuovi argomenti a sua difesa, proteste più energiche, giuramenti più solenni, che immaginava e preparava nelle ore di solitudine, perché la sua mente era spesso occupata unicamente dalla faccenda della cordicella. Quanto più era complicata la sua difesa, quanto più sottili erano i suoi argomenti a discarico, tantomeno veniva creduto. Queste sono le scuse dei bugiardi, così dicevano alle sue spalle. Lui se ne rendeva conto, si rodeva il fegato, si esauriva in quegli inutili tentativi, deperiva a vista d'occhio. Ora i burloni gli facevano raccontare la cordicella per divertirsi, così come si fa raccontare una battaglia al soldato che ha fatto la guerra. La sua mente, profondamente toccata, s'andava indebolendo. Verso la fine di dicembre si mise a letto. Ai primi di gennaio morì e nel delirio dell'agonia aveva continuato ad affermare la sua innocenza. Ripeteva ancora un pezzo di cordicella, un pezzo di cordicella. Eccola qua, signor sindaco.